Gentili telespettatori, buona giornata. Barbara Durso torna in tv. Vediamo in quale programma. E così, secondo il settimanale, chi sarebbe pronta a tornare in video? Probabilmente sul 9. E così la conduttrice, dopo il viaggio in Sicilia con figlio Nuore e nipotina, sbarca a Formentera con gli amici per celebrarne un momento di grande serenità. A un anno dall'uscita da Mediaset e ora in cantiere un nuovo programma. Si rincorrono voci così sul futuro televisivo di Barbara Durso che l'anno scorso, senza pomeriggio 5, fuori da Mediaset potrebbe tornare in video nella prossima stagione. Su un altro numero del telecomando. Proprio lei, in occasione di un incontro con il suo pubblico, aveva detto di essere pronta a tornare in televisione. Il cambio del tasto del telecomando fa pensare proprio al 9. E con un programma nel suo stile, con il suo stile, intanto si code per il momento una vacanza. Grazie a tutti e arrivederci a presto.